Ma, se non ci metti l'OB122, immagina cosa possa fare. Pileciti vai in stop. Schietto. Fa la stessa fine di quel DOB121. Non lo metti e io ti mollo per strada. Adesso ve lo sto dicendo in modo giocoso perché è così, secondo me, che vanno spiegate le cose. Perché chi ti spiega, guarda l'OB122, se stacchi un modo lo si ferma, se non stacchi va lo stesso. No. Bisogna trovare i pro e i contro. Quindi se non mettete l'OB122, appena stacchi un modulo, quello ti va in piantana. Ti pianta. Se tu ce lo metti l'OB122, ti avvisa, ti dice chi, cosa e perché. Perché può essere anche andato a, passatemi il termine, a puttane un modulo di ingressi. E voi cosa ne sapete?